via ecco così ecco allarga le braccia non andate fuori è pericoloso non si preoccupi comandatore ci sono qua io le stavo dando appunto alcune lezioni di nuoto ecco così anche se con quelle due boe non è che i molti problemi di galleggiamento io quello lì lo licenza non so perché ma mi antipatico comandatore la sua bambina fa dei progressi mia andate fuori è perché non si tocca non si preoccupi comandatore si tocca si tocca e se si tocca ma è lì che si tocca ma nei paraggi è stata nei paraggi